no scusa come la devi tirare? ma di qui o di là? voglio tirare le viti a lui che è un casino si è rotta ma è ancora come prima? no un po' meglio così è meglio ma facciamo avanti ancora indietro e ciri? eh sta provando piano piano poi andremo andremo sì dai così è meglio adesso già qua lavora così va meglio ah no va bene eh va bene ma quella lì pazienza va bene dai ah adesso va bene adesso è meglio eh ma questo mi abito e questa che non riuscivo a oh dopo la proviamo di là eh